È visibile che è parte del costo di vita che ha subito e ha un impatto molto grande di una famiglia e un abonero. Quando ci sono, nel final dell'anno, la nostra vita è un tema di subito di corrente di web. Quando arriva a un'altra cosa, che si accadeva il prezzo, ora non è in esperanza, perché l'unico non è mai riuscito, se non c'è una factura di reale, l'unico non c'è una factura di fin di febriari, che si accadeva il prezzo di febriari. Per le persone che si accadeva, se si accadeva, c'è un aumento drastico del prezzo di corrente che si accadeva, e questo è anche, se si accadeva, con tutte le conseguenze che si accadeva, se non c'è un'entrata sufficiente per mantenere il mese, per mantenere la famiglia, per mantenere il casa, per pagare il gasto mensuale fico, c'è un problema. c'è un problema praticamente strutturale, ora che posso solucionare il problema della luna qui, e poi pari davanti di una altra luna a trovare che c'è un problema. Quindi mettere, mettere un'azione da parte del governo, del colegio ejecutivo, mettere qualcosa per solucionare la parte del costo di vita qui, se non c'è una maniera di che si accadeva tutto ciò che si accadeva nel mensuale, e questo è un problema di corrente, di WAP che si accadeva, le tarifiche che si accadeva, i nostri bambini si accadevano molto precari, e si accadevano molto più preoccupanti di quello che si accadeva qui, per me e me e di aia, per fin di aia, non c'è una situazione, che è stata molto difficile, per usare il fuori di aia.